Voglio fare alcune riflessioni dopo Taranto Juventus Stabia di ieri. Non entro nel merito della disquisizione prettamente calcistica, una sconfitta che ci può anche stare, ma voglio elogiare, voglio celebrare questa grandissima partecipazione del pubblico. Non è assolutamente una novità, ieri abbiamo avuto qualcosa come 10.000 spettatori. La dice lunga, lunghissima, sul senso di appartenenza, di vicinanza dei tifosi alla squadra, questo amore viscerale. Perché il calcio a Taranto, come in altre città del sud, rappresenta uno strumento quasi di rivincita. Attraverso quella squadra si sogna, si vuole un futuro diverso per sé e per la propria città. Questo è un po' il motivo anche ispiratore, a mio avviso, che permea gli animi dei tifosi. Da un lato, quindi, una partita di Serie C, 10.000 spettatori e poi penso alla follia, tra virgolette, dell'amministrazione Melucci, del sindaco Rinaldo Melucci, che voleva costruire uno stadio di appena 16.000 spettatori. Questo significa che Rinaldo Melucci non ha un minimo di lungimiranza, che Rinaldo Melucci evidentemente vuole tenere una città nana perché una squadra, una città che deve crescere, un Taranto che non deve limitarsi alla Serie C, immaginate che vada in Serie B, che possa lottare anche per i play-off della Serie A. Non dico andare in Serie A. Beh, vi dico che 16.000 spettatori non servirebbero a niente, sarebbero pochissimi. Sarebbe l'ennesimo spreco di danaro pubblico quello di voler costruire uno stadio con 16.000 spettatori. Perché se la matematica non è un'opinione e se una partita di Serie C ha fatto registrare 10.000 spettatori, noi dobbiamo ragionare in un'ottica più grande, in un Taranto che non rimanga nei bassi fondi della Serie C ma punti ad altro. E puntando ad altro, puntando ad una Serie B, puntando a magari dei play-off che possano portarlo in Serie A, è assurdo, è pazzesco voler fare uno stadio di appena 16.000 spettatori. Ed è un discorso proprio illogico, folle, quello che fa l'assessore allo sport Gianni Azzaro. Quando dice la media degli ultimi anni, quindi non arrivava a numeri eccezionali e quindi la capienza di 16.000 è più che sufficiente, è parametrata a quelli che sono gli spettatori. Ma questo se tu vuoi avere sempre una squadra mediocre in Serie C, se tu invece, come giusto che sia, la squadra deve crescere, deve arrivare a mete maggiori, 16.000 spettatori non sono nulla. Cioè uno deve costruire uno stadio ex novo, spendere decine e decine di milioni di euro per fare che cosa? Lo stadio dei puffi con 16.000 spettatori. Questo significa che l'amministrazione comunale, ripeto, non vuole crescere, è nana mentalmente e vuole evidentemente tenere nana la città, tenere nana la squadra. Io non ci sto. Ecco, questa è stata la riflessione che ho fatto ieri vedendo questa partecipazione enorme, straordinaria. Ma tu sindaco, ma non riesci a capire questo? Tu assessore Azzaro, non riesci a capirlo? Non riesci a capire che, lo ripeto per l'ennesima volta, se per una partita di Serie C tu hai fatto registrare, ci sono stati registrati 10.000 spettatori, immagina con un Taranto in Serie B che magari potrebbe anche sognare chissà cosa. Questa è la riflessione di un sindaco che proprio non ha la visione minima delle cose e di un assessore allo sport Azzaro che si mette sull'attenti, fa signor sì davanti al sindaco e dice siccome noi siamo stati nani, dobbiamo rimanere nani per tutta la vita. Questa è la vostra visione di Taranto, non è la mia visione, non è la visione dei cittadini di Taranto, non è la visione di quegli spettatori che con il cuore hanno sostenuto i colori rosso-blu. Una forma di attaccamento, il calcio, il taranto calcio come strumento di riscatto sociale.